ciao a tutti benvenuti e bentrovati in un mio nuovo video oggi sono qui con voi perché girando per il web ho trovato un articolo che mi ha spettinato più di quello che è ho visto sul sito di douglas un cofanetto che mi ha ricordato molto i calendari dell'avvento quindi ho pensato guarda un calendario dell'avvento estivo in attesa della grande stagione che comincia a settembre ottobre novembre e dicembre e quindi non ho potuto non prenderlo e voglio aprirlo oggi qui con voi questo questo è il pacco ok ho chiesto diciamo c'era la possibilità di scegliere due omaggi e ho voluto questo già lo conosco questo campioncino di profumo di calvin klein one questo ce lo conoscevo e mi piace quindi ho chiesto questo e poi ho deciso di prendere questo profumo di prada per trovarlo perché per provarlo perché non l'ho mai provato non lo conosco quindi però io direi che a questo punto faccio una cosa molto intelligente intanto si presenta in questo modo è più grande di me quasi come un trolley ok questa è la fattura ora io che leggo i prodotti tutto quanto vado a fare un piccolo cambio il coponetto si presenta così come un trolley dietro anche le ruole ho fatto spoiler si presenta così come un trolley quindi diciamo che probabilmente i prodotti sono pensati per il viaggio per la vacanza estiva quindi c'è tutto il necessario da portare in vacanza adesso vado a mettermi gli occhiali perché così possiamo leggere bene insieme i prodotti che sono contenuti all'interno adesso che ho gli occhi vi posso dire il prezzo di questo coponetto se non ricordo male intorno ai 59 euro e adesso lo andiamo ad aprire quindi si presenta così poi vediamo se riusciamo a togliere questa tascia ecco e aprendolo speriamo bene all'interno ok proprio come una valigia quindi ci sono le cinture che tengono i quattro beauty beauty case vediamo corpo, capelli, viso e make up e questo è un po' un problemino e no perché io me lo leggo qui e ve lo apro così allora comincerei dal coponetto dal beauty capelli ecco si presenta così e sopra c'è anche la zip da togliere adesso proviamo toglierlo ma non credo si possono uscire questi prodotti da qui voi non credo si apra così esattamente ok è semplicemente il concept del beauty o la cerniera apriamolo da qui quindi i capelli sembrano esserci due prodotti dall'immagine che c'è fuori il cartoncino esatto e quindi troviamo un siero per capelli all'olio di argan questo è il siero vediamo vediamo se si ha il profumo dell'olio di argan vediamo quali sono le caratteristiche qui nel laterale vediamo tutte le sostanze che non sono contenute si utilizza applicando in inglese è scritto alcune gocce di olio nei capelli e non c'è bisogno di risciappo quindi questo è il primo prodotto che andiamo a trovare un siero per capelli mentre il secondo prodotto è uno shampoo repair una rigaia che è questo alama o alama non conosco questo brand e questo è uno shampoo ristrutturante le schatole sono molto molto belle sembra non so non sembra quasi sottaccio la canola è un materiale molto bello è un poccattone mi devo citare andiamo a vedere qui ho aperto andiamo a vedere il viso visto che questa diciamo questa cerniera coreografica lo aprirò di qua come le possiamo vedere uno due tre quattro cinque sei nel beauty viso ci sono sei prodotti andiamo a vederli insieme andiamo da qui come primo prodotto troviamo una maschera dopo sole di Douglas e il tempo di cosa è di quindici venti minuti bene bene sono contenta di trovare una maschera di us andiamo a pelare quest'altro prodotto cos'è un po' e la pietra e la pietra in quarzo rosa dovrebbe essere che serve per massaggiare il viso una volta utilizzate le creme e la pietra ecco poi l'altro prodotto drogologi questo brand lo conosco vitamina E al 2% più Argan è un siero viso con olio di Argan la modalità d'uso applicare su pelle di testa 2-3 gocce direttamente sul viso prima della crema oppure diluite nella crema base quindi questo si è proviso di drogologi e sono molto contenta di trovarlo perché avrei voluto provarlo qualche tempo fa poi diciamo visto tutti i prodotti l'ho lasciato perdere quindi sono molto contenta di provarlo ma non ce l'ho poi ah un SPF ok 50 vista dell'estate ci sta si va al mare quindi è un SPF 50 50 ml di prodotto ah è chiuso volevo sentire la promozione la proviamo vediamo la promozione provarla per vedere se è unice se può essere utilizzata non si assorbe bene ok si non resta bianca si assorbe bene quindi anche da mettere sotto il trucco sotto il mega ma mongia ma mongia quindi mi sono intenta altro prodotto ok minerali del marmotto gel detergente delicato questo diciamo è l'altro prodottino non conosco questo brand quindi è interessante da provare con oli vegetali naturali estratti botanici minerali del marmotto formolette esclusive ok contenta è sempre gradito un gel detergente quindi molto contento e poi l'ultimo prodotto si di questo scatolino o di questo beauty è dragon's blood radial scouting gel questo prodotto è un gel non so come farvelo vedere ok un gel viso levigante quindi lo proveremo e vedremo quanto pelirà e passiamo all'altra parte di questo trolley e andrei con i prodotti corpo quindi apro più grande di me così e adesso devo appoggiarlo per prenderlo quindi come vediamo nel beauty corpo ci sono tre prodotti questa mi viene a conoscere e se è quella che penso io sono innamoratissima si sono innamoratissima la crema la crema di sol de genero avevo già trovato un'altra crema di questa nel candelio del vento di douglas dell'anno scorso l'ho provata ne avevo sentito parlare benissimo per il profumo per quanto riguarda il profumo e diciamo per l'effetto che lascia sulla pelle è vero è meravigliosa che il profumo resta per tutto il giorno addosso è incredibile sono veramente contenta se la metto anche diciamo in modo che possiate leggere sono veramente contenta di aver trovato questa crema ho visto che ci sono due subetti ma ok NUX si ho sentito parlare di questo brand del NUX body è un gommage questo fa sempre comodo un gommage della NUX e poi l'ultimo produttivo che non c'è altro 123 un body wash questo brand lo conosco ed è un bagno schiuma idratante da viaggio e adesso andiamo diciamo al pezzo al beauty non dico preferito però sì è quello del make up è abbastanza pesante non voglio imparare da quindi non voglio scoverlo moltissimo e vediamo insieme ok che prodotti ci sono qui proviamo intanto questo un olio idratante per labbra della Clarins Clarins vabbiamo insieme credo ci siano varie colorazioni questo è il il 4 sì 04 un lip comfort oil profumo buonissimo bene non ho mai provato il prodotto di questo brand quindi sono contenta di averlo trovato ok poi andiamo avanti allora ammirate signori ammirate signori e signore perché questo prodotto in questo formato è veramente è uno specchietto da borsetta ok uno ingrandisce così non vi accego ha una parte in cui ingrandisce una parte in cui vi specchiate ci si può specchiare in modo normale una parte che ingrandisce quindi contentissima di aver trovato questo specchietto da borsetta che si può chiudere perché in genere ci sono nei calendari dell'avvento vengono spesso inseriti gli specchi piccoli ma non hanno una chiusura per cui si riempi e questa è anche la calamita sentite bene molto molto contenta anche il colore è molto bello molto sbrillucidoso bene contenta grazie Douglas viviamo intelligente stata questa poi troviamo signorina salvatore ferragamo è un profumo una fragranza da borsetta lo apriamo vediamo se è un profumo che ci fosse piacere sono molto contenta che è tutto ben incartato ok si presenta così lo proviamo facciamo lo sciogra un po' quindi signorina un ode profumo ode sì è piacevole io preferisco altri profumi però è piacevole ve lo faccio vedere ve lo faccio dorare sì è piacevole è dolce io non so descrivere benissimo i profumi quindi estivo ma la descrizione migliore di questo sento un piccolo cos'è glitter bomb ok glitter bomb di lamelle un ombretto un gel con glitter olografici questo è da provare in qualche video in uno dei miei trucchi così sopi ok sono contenta di aver trovato dei glitter poi bene un altro mascara io li colleziamo il mascara voi lo sapete bene ecco questo mascara è della l'oreal è arricchito con oli nutrienti non lo apro abbiate vietà perché ne ho aperti ne ho almeno cinque aperti quindi vorrei mantenerlo nel tempo e poi non so se siamo oh ancora un prodottino cos'è uno smaltino uno smaltino di essi credo sì allora smalto per unghie la shade è 13 mademoiselle mademoiselle non conosco il francese scusate la shade è 13 appunto uno smalto per unghie ma sì dai in colore estivo in colore estivo e come ultimo pezzo ma non per importanza il pezzo forte direi troviamo una palette di morphy la palette è di 16 ombretti vavabloom artistica anche questa è ben protetta c'è il cartoncino mi piace molto bello il colore del pack con queste sfumature questo grande e la palette è questa è plastica ok è in plastica uno specchio enorme e già questo è fantastico e le colorazioni ok i nomi delle delle colorazioni sono sulla protezione sul filtro protettivo quindi noi ora togliamo eccoli qua si vede un contro luce e queste sono le cialde questi shimmer sembrano veramente sono da provare ovviamente ma sembrano veramente molto belli come nude alla fine sta sempre bene sempre si può portare sempre con tutto in ogni occasione quindi non mi dispiace avere un'altra palette con questi colori anche perché sono 16 è grande uno specchio molto molto grande mi piace sì e poi io non ho mai provato palette di questo brand quindi sono contenta di poterlo provare e questo era l'ultimo pezzo credo dov'è sì l'ultimo pezzo quindi ok nel vetro di questa bellissima valigetta piccola valigetta ci sono tutti i prodotti con le descrizioni vi faccio vedere quindi i prodotti le descrizioni poi c'è la quantità gli ml che sono contenuti nei vari prodotti e il periodo il PAO in totale i prodotti che sono contenuti nel trovo e il viaggio sono 18 tra viso corpo hair care make up ci sono 18 prodotti e il prezzo è di circa 59 ve lo dirò con un'esattezza 59 è sicuro non mi ricordo i centesimi ve lo lascerò con esattezza quindi io credo che ne valga la pena anche perché ci sono dei prodotti che già due o tre prodotti vi ripeto tutto il cofanetto che non è questo quindi se vi va dateci un'occhiata e poi vogliamo parlare i dolori di questo cofanetto di questo piccolo trolley da viaggio sono veramente estivi è molto colorato mi piace anche questo rosa il contrasto tra il rosa e il bianco e poi in mezzo tutti i colori mi piace molto Douglas grazie grazie veramente diciamo che ha un po' allietato l'attesa aspettando questi altri mesi in attesa dei calendari io non vedo l'ora già ci penso marzo aprile quando comincio a pensare a settembre per l'apertura l'acquisto e l'apertura dei calendari spero di avervi tenuto compagnia spero di esservi stata utile con l'apertura di questo cofanetto così magari se c'è qualche prodotto che vi può interessare sapete cosa appunto c'è all'interno se vi è piaciuto questo video lasciate un like se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi se vi va noi ci vediamo in un prossimo video e vi auguro una buona continuazione di giornata a presto ciao